Grazie per l'attenzione, se Gabriella Givertini vuole dare un saluto a chi ha partecipato. Grazie ancora a tutti gli equipaggi, grazie ancora a tutto questo splendido pubblico. Spero che siate stati contenti, credo proprio di sì, perché delle auto veramente meravigliose che hanno stilato qui davanti al Comitato d'Onore. Ringrazio tantissimo il Comitato d'Onore, la signora Lungotti, il dottor Magnoni, il nostro sindaco. Sono spariti, però ecco qui il nostro sindaco, grazie di essere venuto e grazie anche al dottor Monari di Promo. Quindi diciamo che adesso, come ha detto il nostro dottor Tassioli, che anche lui ringrazio tantissimo di essere venuto, finisce questa parte, noi andremo a mangiare, diciamo gli equipaggi andremo a mangiare verso luna, comunque vi chiameremo col microfono per cui potete ammirare ancora, anche gli equipaggi stessi ammirare ancora tutte queste splendide auto, poi nel pomeriggio a 10 minuti alle 3 partiremo e andremo a Modena e sfilata dove saremo in Piazza Roma, per la prima volta in Piazza Roma. Quindi se volete vedere chi vincerà, se siete curiosi, venite in Piazza Roma. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!